Forse io posso aiutarvi. Il ragazzo ha ragione. Magari è ora che si trovi un altro popolo. No. Sono io ad averlo portato da voi. E lo restituirò al luogo a cui appartiene. Non te lo permetterò. È il mio cucciolo. Questo giorno doveva arrivare. Ma noi siamo l'unica famiglia che abbia mai conosciuto. Raksha. È l'unico posto dove sarà al sicuro. Stai tranquilla, Ami. Non andrò lontano. Turmerò presto a trovarti. Non dimenticarlo mai. Tu sei mio. Mio. Solo mio. Dovunque andrai o comunque ti chiameranno. Tu sarai per sempre mio figlio. Sissi un buon appetito. Tutto. 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 Grazie a tutti.